buongiorno a tutti siamo in diretta dalla casa sul mare di manuele de pretto sono le ore 4 e 17 se dite anche 16 e 17 ma è più lento la zoom eh mi raccomando ma che figata il grafico che è l'orologio vabbè si vede le 16 e 17 le 16 e 17 siamo qui per un nuovo aggiornamento sul cd della sfiga band ad alta risoluzione in uscita vi ricordiamo nel 2012 ieri sera siamo da 8 ieri sera eravamo rimasti a quattro canzoni come potete vedere da questo cartellone e prima stridio che era una canzone vecchia prodotti per capelli e attrezzature agricole che era stata completa da ieri sera beautiful con una sola L mi raccomando e le scarpe nuove che anche queste erano canzone che sono erano già state fatte bisognava rimetterci solo un po le mani a quest'ora alle 4 e 18 possiamo chiamare il nostro valletto per segnare una nuova canzone possiamo chiamare il nostro valletto per segnare una nuova canzone la canzone da segnare è ad alta risoluzione ad alta risoluzione questa canzone è appena stata completata siamo molto fieri del nostro lavoro e aveva una inizialmente una una quota di testo molto bassa infatti era un 4 cioè sotto la sufficienza però siamo comunque riusciti a ottenere una cosa molto buona